L'attività che negli ultimi anni abbiamo portato avanti con un grande entusiasmo nell'ambito sportivo, in modo particolare nel mondo del calcio, porto anche il saluto del nostro Presidente, che con gioia ha deciso di avviare questa parte fondamentalmente per tre grandi motivi. Il primo grande motivo è che a noi piacciono le sfide e la nostra storia lo testimonia siamo un'azienda relativamente giovane, in poco meno di vent'anni ci siamo fermati nel compatto delle acque minerali, che è un compatto molto competitivo e la storia che abbiamo scelto è quella delle sponsorizzazioni sportive, che devo dire a distanza di poco più di vent'anni ci ha premiato. Ci piacciono le sfide, in modo particolare amiamo le realtà giovani, dinamiche e ambiziose. Siamo partiti magari da un rep titolato come quello della Juventus e poi abbiamo deciso di concentrarci su progetti che ci piacevano, ci piacevano soprattutto perché alla base c'era condivisione di ideali, di valori e soprattutto per noi è importante, abbiamo una grande garanzia che è quella della famiglia per cassi, di serietà imprenditoriale, una grande garanzia di professionalità e esperienze nell'ambito parcistico che è rappresentata da Pierpao Marino e poi una traduzione parcistica come quella dell'Atalanta che rappresenta la terza di grande motivazione che ci ha spinto ad abbinare il nostro macchio alla scuola dell'Atalanta. Grazie. Grazie.